Nessuno si stupì per il matrimonio del signor Simon Dubremin con la signorina Jean Cordier. Dubremin aveva appena comprato lo studio del notaio Papillon. Ben inteso, servivano i soldi per pagarlo, e la signorina Jean Cordier aveva proprio 300.000 franchi liquidi in biglietti e titoli al portatore. La Brouman era un bel luvalotto, dai modi eleganti, da notaio provinciale se si vuole, il che è raro a Boutigny-Lerebour. La signorina Cordier era fresca e aggraziata, di una grazia un po' impacciata, di una freschezza un po' goffa, ma era insomma una bella figliola, attraente e desiderabile. La cerimonia degli sponsali fece epoca a Boutigny. Erano molto ammirati gli sposi, che andarono a nascondere la loro felicità nel domicilio coniugale, poiché avevano deciso di fare soltanto un viaggetto a Parigi, dopo qualche giorno di intimità. Erano davvero incantevoli quei giorni di solitudine. Le Brouman seppe agire nei suoi primi rapporti con la moglie, con un'abilità, una delicatezza, una tempestività notevoli. Aveva adottato questo motto, chissà aspettare, coglie il frutto maturo. Seppe essere energico e al tempo stesso paziente. Il successo fu rapido e completo. Dopo quattro giorni la signora Le Brouman adorava a suo marito. Non poteva più stare senza di lui. Doveva averlo tutto il giorno accanto a sé, per accarezzarlo, abbrazzarlo, giocare con la barba, il naso, eccetera. Gli si sedeva sulle ginocchia e diceva, prendendole per le orecchie, apri la bocca, chiudi gli occhi. Lui apriva la bocca con fiducia, chiudeva gli occhi a metà e riceveva un bel bacione tenero, lungo, lungo, che gli faceva correre dei gran brividi lungo la schiena. Da parte sua, nemmeno lui aveva abbastanza carezze, labbra, mani o abbastanza di tutta la sua persona per far felice la moglie dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. Trascorsa la prima settimana, Le Brouman disse alla giovane compagna, «Se vuoi partiamo per Parigi, martedì prossimo. Faremo come gli innamorati che non sono ancora stati sposati. Andremo a mangiare fuori, andremo a teatro, nei caffè concerto, dappertutto, dappertutto!» Jean saltava dalla gioia. «Oh sì, oh, andiamoci, al più presto possibile!» Lui riprese, «Poi, siccome non bisogna dimenticare nulla, ricorda a tuo padre di tenere pronta la dote. La porteremo con noi e, profittando dell'occasione, pagheremo il notaio papillon». Lei disse, «Glielo dirò domattina». Le Brouman se la prese tra le brazza per ricominciare quel tenero giochetto che a lei piaceva tanto da otto giorni. Il martedì successivo, il suocero e la suocera accompagnarono alla stazione la figlia e il genero che partivano per la capitale. Il suocero diceva, «Vi assicuro che è un'imprudenza portarsi dietro una somma simile». E il giovane notaio sorrideva, «Non vi preoccupate, caro suocero, ci sono abituato. Capirete, con la mia professione mi capita a volte di avere addosso quasi un milione». «In questo modo almeno eviteremo un mucchio di formalità e un mucchio di ritardi. Non vi preoccupate di nulla». Il capotreno gridò, «I viaggiatori per Parigi, in carrozza!». Si precipitarono in una carrozza dove c'erano due vecchie signore. Le Brouman sussurrò all'orecchio della moglie, «È seccante, non potrò fumare», lei rispose sottovoce, «secca anche me, ma non per il tuo sigaro». Il treno fischiò e partì. Il viaggio durò un'ora, durante il quale non dissero granché, perché le due vecchie signore non dormivano affatto. Appena furono nel ladrio della stazione Saint-Dazard, Le Brouman disse alla moglie, «Se vuoi, cara, andremo prima a mangiare sul boulevard, poi torneremo pian piano a prendere i bagagli per portarli all'albergo». Lei accettò subito, «Sì, sì, andiamo a mangiare al ristorante, è lontano?». «Sì, un po', rispose lui, ma prenderemo l'autobus». Lei si stupì, «Perché non prendiamo una carrozza?». Le Brouman la sgridò sorridendo, «È così che fai economia?». «Una carrozza per cinque minuti di strada, sei soldi al minuto». «Non vuoi proprio fare a meno di nulla?». «È vero», rispose lei un po' confusa. Passava un grosso omnibus al trotto dei suoi tre cavalli. Le Brouman gridò, «Cocchiere, ehi, cocchiere!». La pesante vettura si fermò. Il giovane notaio, spingendo avanti la moglie, le disse rapidamente, «Sali dentro, io mi arrampico su per fumare almeno una sigaretta prima di mangiare». Lei non ebbe il tempo di rispondere. Il conducente, che l'aveva afferrata per un braccio per aiutarla a salire il predellino, la scaraventò nella vettura e lei andò a finire smarrita su un sedile, guardando con stupore del vetro di dietro i piedi del marito che si arrampicava sull'imperiale. Rimase immobile tra un vecchio signore che puzzava di pipa e una vecchia signora che aveva addosso odore di cane. Tutti gli altri passeggeri, allineati e silenziosi, un garzone di droghiere, un'operaia, un sergente di fanteria, un signore con gli occhiali d'oro che aveva in testa un cappello dalle falde enormi e rialzate come grondaie, due signore dall'aria altezzota e stizzosa che parevano dire con il loro atteggiamento «Ci troviamo qui, ma valiamo qualcosa di più». Due suore, una ragazza senza cappello e un becchino parevano una collezione di caricature, un museo grottesco, una serie di deformazioni del volto umano, simili a quelle file di comici fantocci che nelle fiere si buttano giù con le palle. Gli urti della vettura sballottavano le loro teste, le scuotevano facendo tremolare la pelle flaccida delle guanze e le vibrazioni delle ruote li intontivano, sicché parevano idioti ed addormentati. La giovane donna rimaneva inerte. «Perché non è venuto con me?» si chiedeva, oppressa da una vaga tristezza. «Avrebbe, dopo tutto, potuto fare a meno di quella sigaretta?» Le suore fecero segno di fermare e uscirono una dietro all'altra, diffondendo un odore insipido di vecchie sottane. La vettura ripartì, si fermò un'altra volta, salì una cuoca rossa e trafelata. Si sedette, posandosi sulle ginocchia il cesto della spesa. Un forte odore di rigovernatura di piatti si diffuse nell'omnibus. «È più lontano di quel che credessi?» pensava Jeanne. Il becchino scese e fu sostituito da un cocchiere che puzzava di stalla. La ragazza senza cappello ebbe per successore un fattorino, i cui piedi esalavano il profumo delle sue corse. La moglie del notaio si sentiva a disagio, nauseata, e aveva voglia di piangere, senza sapere perché. Scesero altre persone, altre ancora ne salirono. L'omnibus continuava la sua corsa per le strade interminabili, si arrestava alle fermate, si rimetteva in moto. «Com'è lontano?» si diceva Jeanne, purché non si sia distratto o addormentato. In questi giorni si è stancato molto. Ma poco a poco i viaggiatori scesero tutti. Lei rimase sola sola. Il conducente gridò «Vo girar!» Poiché la signora non si muoveva, ripetè «Vo girar!» Jeanne la guardò, comprendendo che si rivolgeva a lei, visto che non c'era rimasto più nessuno. L'uomo disse per la terza volta «Vo girar!» Allora lei chiese «Dove siamo?» L'uomo rispose burbelo «Siamo a Vo girar, perbacco! Son venti volte che lo grido!» È lontano il boulevard. Quale boulevard? Il boulevard des Italiennes. È un bel pezzo che è passato. Ah sì, volete avvertire il mio marito? Vostro marito. E dov'è? Ma sull'imperiale. Sull'imperiale? Ma è parecchio che non c'è più nessuno. La donna ebbe un gesto di terrore. Come? È salito con me? Non è possibile. Guardate meglio, ci deve essere. Il conducente diventò villano. Su, piccola, basta con le chiacchiere. Un uomo perduto, dieci trovati. Sgombrate e basta. Ne troverete un altro per strada. Con le lacrime agli occhi la insistè. Ma signore, vi sbagliate. È al sicuro che vi sbagliate. Aveva una cartella sotto brazzo. Il conducente si mise a ridere. Una cartella? Ah, sì. È sceso la Marlene. Fa lo stesso. Li ha proprio piantato, eh? La vettura si era fermata. L'hai scesa e senza volerlo guardò con un movimento istintivo degli occhi sul tetto dell'omnibus. Era deserto. Allora si mise a piangere e a voce alta, senza pensare che potevano sentirla o vederla, esclamò Che sarà di me? Il controllore dell'omnibus si avvicinò. Che cosa c'è? Il conducente rispose con tono beffardo. Una signora che è stata piantata in strada. L'altro continuò. Va bene, non è nulla. Occupatevi del vostro lavoro. E girò i tacchi. Allora Jean cominciò a camminare dritta davanti a sé, troppo sgomenta e troppo sconvolta per capire cosa fosse accaduto. Dove sarebbe andata? Cosa avrebbe fatto? E a lui? Che cosa era successo? Come era potuto avvenire un simile errore, una simile dimenticanza, un simile equivoco, una distrazione così incredibile? Aveva due franchi in tasca. A chi rivolgersi? Di colpo si ricordò del cugino Barral, vice capufficio al Ministero della Marina. Aveva giusto quanto bastava a pagare la corsa. Si fece portare a casa sua. Lo incontrò che stava uscendo per andare al Ministero. Portava come Lebroumane una cartella sotto il braccio. Lei si slanciò fuori dalla carrozza gridando «Henri!» Lui si fermò sbalordito. «Jean! Qui! Sola! Che fate? Da dove venite? Lei balbettò con gli occhi pieni di lacrime. Poco fa si è perduto mio marito. Perduto? E dove? Sull'omnibus! Su un omnibus! Oh! E lei gli raccontò piangendo l'accaduto. Barral l'ascoltava meditando. Chiese stamani aveva la testa a posto? Sì! Bene! Aveva molti soldi con sé? Sì! Portava la mia dote! La vostra dote? Tutta? Tutta! Per pagare il suo studio stamattina! Ebbene, cara cugina, vostro marito quest'ora se la sta svignando verso il Belgio. La donna non riusciva ancora a capire. Balbettava. Dite che mio marito dico che vostro marito si è arraffato tutto il denaro. Ecco tutto. Lei restava in piedi mormorando quasi senza fiato. Ma allora è un è un mascalzone! Poi sentendosi venir meno per l'emozione si abbatté sul panciotto del cugino. Poiché la gente si fermava a guardare questi la spinse dolcemente verso l'ingresso di casa sua e mentre la domestica interdetta apriva la porta le ordinò Sofì correte al ristorante a ordinare un pranzo per due persone. Oggi non andrò al ministero.